Ciao, sono Francesco Duglio, fondatore e sviluppatore di Stay Active. La mia ragazza mi diceva sempre stai dritto che sei più bello, sembro più alta io di te. Una volta mi raddrizzavo, tutte le altre sentivo le sgridate. Quanti si lamentano spesso dei dolori alla schiena dovuti al continuo lavoro davanti a un pc o all'utilizzo dello smartphone? Stay Active è il dispositivo che ti aiuta a correggere la postura. Il cuore di Stay Active è racchiuso in una scatoletta e si indossa in prossimità della spalla grazie ad una calamita. Il collegamento con la sua applicazione avviene tramite bluetooth e dopo la calibrazione, veramente facile e veloce, Stay Active vi avviserà con una vibrazione ogni volta che sarete nella postura scorretta. In così poco tempo non ci siamo conosciuti abbastanza bene però. Per saperne di più venite a trovarci sul nostro sito getstayactive.com